...dalle lezioni di Avellinese e Carrefano a Joel dall'Argentina. Però dai che ti chiusa la panza io, guarda. Qua stanno 500 mila euro in investimento. Ok, la lezione devi. Va, insegnagli qualcosa in dialetto. Allora, il pane, rupone. Rupone. Il formaggio, rucquoso. Rucquoso. La siepe, la subola. La subola. E' una bella donna, Silvina? Allora, le femmine noi le chiamiamo... Allora, che bella guagliarda. Guagliarda come bugiarda? No, no bugiarda, guagliarda. Che bella ragazza, che bella ragazza. Che bella guagliarda. Che bella guagliarda. L'ha passato l'esame? Eh, sì. Diciamo di sì. E rito una cosa in argentino. Che dico? Quello che vuoi, Osso. E' una... E' difficile. Sono tutti insulti. No, insulti no. Una cosa è ribadito. Ecco, vedi, il pubblico che ci sta seguendo. Diciamo... Vamos, vamos, Avelino. E vai, grande. E' ribadito.